Il Paradiso, ipotesi prossimi episodi, Maria annulla matrimonio con Matteo. Nelle nove puntate di Il Paradisi delle Signore, in onda su Rai 1, l'equilibrio si fa sempre più precario. Maria potrà far annullare il suo matrimonio con Matteo non appena lo incontrerà di nuovo a Parigi. La situazione diventa delicata dopo che Marcello viene a conoscenza di tutti i dettagli della frode di Offer e del tradimento del fratello. Matteo, scosso dalla discussione con Marcello, vola a Parigi per stare con Maria. Spera di trovare conforto e pace, ma le cose potrebbero non andare come previsto. Matteo e Maria sono pronti al matrimonio nella sua Opil Paradisi delle Donne 9 come vi avevamo annunciato nel precedente spoiler. Maria e Matteo stanno organizzando il loro matrimonio, che verrà celebrato in primavera. La famiglia Paglissi è felice, ma all'inizio Ciro, il padre, ha fatto di tutto per tenere lontana Maria da Portelli, senza mai aspettarsi che Maria lasciasse Vito. Vista la situazione attuale, non è da escludere che Maria decida di annullare le nozze e fare altri progetti per la sua vita con Matteo. Lo stesso Marcello era felice per suo fratello, almeno finché non si ricò in Germania per indagare sul caso Oferre e scoprì il suo tradimento. Matteo ha intenzione di incontrare di nuovo Maria quando la raggiungerà a Parigi e di condividere notizie sul suo futuro al suo ritorno. Ma cosa sarà? Umberto ha rovinato la vita di Portelli Portelli perde la fiducia di Marcello e si isola sempre più. Anche chi gli sta intorno sa cosa ha fatto, compressi Salvo e Rosa. A orchestrare il tutto fu Umberto, spinto da un desiderio di vendetta nei confronti di Marcello, che mise in pericolo anche la vita di Silvana. Dato che sua madre è l'unico modo per sfuggire alla morte, cosa può fare Portelli? Anche se aveva commesso un reato, aveva un movente legittimo e Guarnieri lo sapeva. L'unico sogno di Matteo è la prospettiva del matrimonio e di una vita felice con Maria, ma anche quella speranza potrebbe essere delusa. Maria capisce quanto sia delicata la posizione di Portelli e valuterà il da farsi. Una teoria è che abbia deciso di annullare il matrimonio per incoraggiare Matteo a risolvere le cose e riconciliarsi con suo fratello. Matteo condivide notizie sul futuro con Maria un'anticipazione della prossima puntata del Paradisi delle Donne rivela che Portelli Sarà da Parigi con importanti notizie sul suo rapporto con Maria e le condividerà con Marcello nella puntata di venerdì 15 novembre. Per questo motivo non possiamo escludere la possibilità che il matrimonio venga annullato. Forse la priorità di Matteo adesso è riconciliarsi con Marcello e porre fine a questa questione.